Cari e miei ascoltate, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e vogliamo leggere alcuni versi del Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Questo salmo è uno dei tanti salmi di Davide ed è un salmo particolare perché è una preghiera rivolta a Dio con tutto il cuore, diremmo a cuore aperto, in modo sviscerato. Davide non indossa nessuna maschera. Davide non si vuole più nascondere dallo sguardo penetrante dell'iddio tre volte santo. Ma Davide finalmente apre tutto il suo cuore davanti al Signore. Questo salmo è stato probabilmente scritto dopo che Davide ha commesso un grave peccato. Peccato di adulterio, ma anche ha inviato dei messi in qualche modo e ha ordito un agguato per la morte del marito di colei che lui aveva preso ingiustamente. Ma al di là di questo, anche perché delle situazioni difficili di Davide ne ha attraversate, come tutti noi, nel corso della sua vita, questo salmo è il salmo della confessione di Davide, del pentimento, ma anche del vero cambiamento, chiamato ravvedimento, un cambiamento di vita, un cambiamento davanti al Signore. È un salmo veramente interessante perché prima di tutto vi è da parte di Davide la presa di coscienza del suo peccato. O se parliamo di peccato forse tu dici ma io non ho peccato. Mi è capitato qualche volta di parlare di Gesù alla gente, del proprio peccato e mi hanno detto ma devi andare più in là a parlare di queste cose, a quella gente, alle prostitute forse, a coloro che rubano, a coloro che commettono qualche crimine, non devi parlare di peccato a me, poiché io non ho peccato. E invece Davide finalmente prende coscienza del suo peccato. Avete notato nella lettura? Abbi pietà di me. O Dio purificami, cancella i miei mesfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato, poiché io sono un peccatore, io ho peccato, io ho bisogno di te. Che bello! Quando l'uomo riconosce davanti a Dio il proprio peccato. Qualcuno saprà e ricorderà una parabola veramente nota nel Vangelo, la parabola del figliuol prodigo, di questo giovane che va lontano dalla casa del padre, dissipa l'eredità ricevuta e poi si rende conto di quello che ha fatto. Ritorna al padre e le parole che egli dice a suo padre sono ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come un tuo servo. Ho peccato, non sono degno, io ho peccato contro di te. Eppure alcuni pensano ma cosa c'entra Dio con la mia vita? La mia vita io voglio condurla come voglio. Che c'entra Dio? Cosa c'entra il peccato? E invece l'uomo deve rendere conto a Dio perché trasgredire la legge di Dio è peccato. Fallire il bersaglio, Dio ci ha creati per uno scopo, un obiettivo, fallire questo bersaglio è peccato. Ignorare i comandamenti di Dio, la volontà di Dio, la legge di Dio è peccato. Quindi ho peccato contro di te o Dio. Io ho peccato. Ma non solo Davide riconosce, prende coscienza del suo peccato, ma Davide esprime la volontà di essere liberato dal peccato. E avete notato nel verso 7 che ho letto? Purificami con issopo, sarò puro, lavami, sarò più bianco della neve. Signore intervieni tu nella mia vita, purifica tu la mia vita. Io non posso liberarmi da solo, sei tu che devi liberarmi dal peccato, poiché io da solo non ci riesco. E quante volte, forse tentando di fare il bene, il male ti ha avviluppato e ti ha schiacciato. Quante volte hai detto, io questo non lo voglio fare più, voglio condurre una vita migliore, rispettando mia moglie, mio marito, cercando di essere un uomo migliore in questa società. Ma poi ti sei reso conto che erano promesse come bolle di sapone, che sono svanite poco più avanti. Ed ecco perché Davide dice, oh Dio, purificami tu, lavami tu il cuore, la mente, la vita dal mio peccato, perché il peccato mi sta sempre davanti. So che ti offende, ho peccato contro di te, allora liberami dal mio peccato, purificami dal mio peccato e sarò puro e potrò esultare, potrò ringraziarti, glorificarti. C'è stato un tempo nel quale Davide ha tentato di nascondere il suo peccato, ma dice la Bibbia che chi copre la sua trasgressione non può prosperare. Davide per un tempo ha occultato il suo peccato come se a Dio si potessero nascondere le cose, ma Dio vede ogni cosa, conosce ogni cosa. E Davide dice finché ho taciuto sono stato zitto, non ho confessato il peccato o mi sentivo morire perché la tua mano mi schiacciava. Allora ho detto basta, devo confessare a Dio il mio peccato e Dio mi perdonerà e mi aiuterà. Quindi prendere coscienza del peccato, quindi volontà di essere purificati, liberati dal peccato, ma c'è un'altra realtà molto importante che è il desiderio di una nuova vita. Non solo Signore perdonami per il peccato, ma Signore cambiami, voglio essere una persona nuova, non voglio essere perdonato per continuare a peccare. Sapete ci sono persone che confessano il peccato, forse anche gli uomini, prendono la soluzione per il proprio peccato, ma dopo qualche ora, forse qualche minuto, tornano a vivere nel peccato. Ma Davide dice no, voglio cambiare vita, non voglio vivere più nel peccato. Ecco uno spirito ben saldo, non lasciarmi questo cuore, cioè non lasciarmi in questa condizione così decaduta, perché altrimenti ritorno al male, ritorno al peccato, ma fai un'opera nella mia vita, cambia il mio cuore, trasforma la mia vita, perché da oggi in poi non voglio più peccare, voglio nascere di nuovo, voglio diventare una nuova creatura. E questo è possibile accettando Gesù nel proprio cuore come salvatore, come liberatore, come perdonatore. Il proseguio della vita di Davide sarebbe stata una vita spesa alla gloria di Dio. Voglio vivere una vita nuova, una vita per il Signore. A te, oh Dio, io rendo tutta la gloria da ora in eterno. Amen. Grazie a tutti.